I dati sono stati forniti dall'azienda ospedaliera universitaria in occasione della commemorazione della tragedia di Charlie Alfa. A Parma il servizio di elisoccorso è attivo da 27 anni. La prima missione il 19 luglio 1988 a Varsi. Nel primo semestre 2015 gli interventi sono stati 447 con un andamento in crescita rispetto al 2014 e al 2013 quando l'elisoccorso si levò in volo rispettivamente 808 e 747 volte. I mesi di maggiore attività sono solitamente quegli estivi da giugno a settembre. L'elicottero può alzarsi in volo a partire dalle 7 e 30 fino al tramonto e in condizioni meteo che consentano una visibilità pari a un chilometro in orizzontale e 150 metri in verticale. Dal momento della richiesta di soccorso l'elicottero è pronto per decollare in 2 minuti e 30 secondi circa. Il tempo di volo medio è di circa 12 minuti e 30 secondi. Per raggiungere l'autostrada del sole ad esempio corrono 5 minuti per arrivare a Corniglio 10 minuti. Ogni equipaggio dell'elicottero BK117 in dotazione alla centrale operativa 118 Emilia Ovest è composto da un medico rianimatore anestesista e due infermieri entrambi appartenenti alla struttura dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma. In totale tra medici, infermieri, piloti e tecnici della manutenzione sono 92 le persone che partecipano al servizio di elissocorso in attività oltre che nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia anche nelle zone di confine con le province di Mantova, Cremona, Lucca e Massa.